Ora abbiamo la pesca e il paginillo, e quando vede quindi dalla ragazzina viene andata la bala con il nuovo pesca. . . . . . . . . Il primo è diventata la barba, però è finita la barba. Andiamo per preparare il piede, il fatto di toglie. Vediamo la barba. Questa vita è la barba. Dai che toglie l'espedita. No, non è l'espedita. Stasera l'assurrezione. Stasera l'assurrezione. Dove? Per la prossima buonanotte, vi vede preparare il piede.